Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno eseguito nei confronti di ben 11 tra amministratori comunali e funzionari presso i comuni di Perito e Orria, nonché nei confronti di amministratori di note imprese cilentane, alcune ordinanze applicative di misure cautelari personali emesse dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania. I provvedimenti sono stati emessi al termine di una lunga attività di indagine svolta dall'arma sotto la direzione della Procura Vallese, che ha consentito di appurare gravi e prolungate irregolarità che hanno avuto luogo nei due comuni nella gestione della spesa pubblica e che si sono concretizzate in una serie di reati che, per quanto concerne il comune di Perito, vanno dalla frode nelle pubbliche forniture al peculato, alla falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici all'abuso d'ufficio, di vieto di esercitare imprese, uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e interdizione per sei mesi delle attività inerenti a tali ruoli sono, nello specifico, i provvedimenti emessi, complessivamente a carico di sette soggetti, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente sono i reati contestati nell'ambito del comune di Orria, con affidamenti predeterminati di appalti a specifiche imprese e indicazioni atte a condizionare le previste modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. In questo caso sono scattati a carico di quattro soggetti provvedimenti di divieto di dimora e divieto di esercitare imprese, uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese con interdizione per sei mesi dalle attività inerenti a tali ruoli. Questo in sintesi lo scenario relativo a quanto si è verificato complessivamente nei due comuni, ovvero è emersa una gestione familiaristico clientelare della cosa pubblica da parte di pubblici amministratori e funzionari presso enti comunali, attuata senza considerare le più elementari norme giuridiche che governano la gestione degli appalti e l'assegnazione degli incarichi e dei servizi a imprese che hanno tratto profitto dal malsano sistema con vantaggi patrimoniali non dovuti e soprattutto non da poco.